Grazie a tutti. Perché ci rimanga qualcosa di questa splendida giornata? Si ringrazia l'Associazione Liberi TV per la registrazione audio-video dell'evento e tutto il materiale sarà fruibile sul sito e sul canale YouTube www.liberi.tv. Mi sentite? Perché a quanto pare la registrazione avverrà soltanto internamente e quindi dobbiamo alzare la voce. Come sapete la rete dei comitati è molto attiva ed è composta dai CPO dei Tribunali della Calabria. Non abbiamo, ci siamo tutte, non c'è purtroppo Palmi perché non ha ancora votato, essendo rientrato il periodo di votazione nel periodo Covid e quindi ha subito un rinvio. Voteranno a breve e quindi saranno con noi, saranno con noi nella rete. La rete è stata la prima in Italia, Rosalba, corregimi se sbaglio, poi l'ha formata la Toscana e adesso si è costituita in quasi tutte le regioni, proprio per tenere uniti i comitati perché l'unione fa la forza. Infatti il nostro logo è Unirsi per Contare. Le attività che facciamo sono note. Quest'anno abbiamo voluto aprire i lavori della rete rinnovata che abbiamo anche noi rinnovato le cariche e io ringrazio per la fiducia accordatami come Presidente, quindi ringrazio le colleghe che mi hanno voluta alla guida di questo bellissimo gruppo. Ringrazio il mio comitato, il Comitato Pari Opportunità di Lamezia. Cogliamo l'occasione oggi per festeggiare i 15 anni di attività del Comitato di Lamezia Terme. Perché il Comitato Pari Opportunità di Lamezia Terme nasce nel settembre del 2005, quando ancora non era obbligatorio, perché poi li ha resi obbligatori la legge professionale forense. E nasce per un'intuizione della collega Avvocato Francesca Zaccaro, che doveva essere con noi come promotrice antisignana dei Comitati Pari Opportunità e come past Presidente, ma purtroppo un problema di salute piccolo le ha impedito di essere presente, ma è nel nostro cuore e la ringraziamo per avere poi presieduto per due mandati il Comitato Pari Opportunità di Lamezia Terme. L'attività è stata ricchissima e da un po' di tempo, di fronte al dilagare delle discriminazioni e della violenza, siamo proprio uscite dalle aule dei tribunali, siamo andati nelle scuole con progetti scolastici per dare il nostro contributo alla prevenzione. Sulla formazione siamo impegnatissime, scegliendo tematiche di impatto giuridico sociale, chiamando come relatori spesso i magistrati, i nostri magistrati del territorio, per suggellare anche una collaborazione in tal senso con la magistratura. Ma non vi voglio tediare sull'attività dei comitati che conoscete. Abbiamo voluto quest'anno, per iniziare i lavori della nuova rete, i presidenti dei consigli dell'ordine. Abbiamo voluto i presidenti del consiglio dell'ordine perché siamo nell'ottica della collaborazione, dell'unità, e riteniamo che uniti, anche con il COA, si possa veramente andare molto più avanti e si possa combattere insieme per il momento molto brutto che l'avvocatura sta attraversando. L'avvocatura in Italia, ma anzi in Italia siamo un po' fortunati, perché nel mondo, in Turchia, in Iran, siamo reduci da problematiche assurde, che stupisce sentirle perché non le vorremmo nemmeno sentire. Quindi vuol dire che ancora la strada da fare è tanta a livello globale. Per quanto riguarda l'Italia, io l'altra volta, dovendo portare i saluti ad un bellissimo convegno tenutosi da remoto a Reggio Calabria, promosso dal Comitato Pari Opportunità, sulla Pari Opportunità in Europa, sono andata a spulciare più o meno qual è la situazione negli altri paesi. E ho visto che non è che siano messi meglio di noi. Noi ci lamentiamo sempre che l'Italia è il fanalino di coda, ma ho visto che la Germania è indietro per quanto riguarda le quote di genere nelle pubbliche amministrazioni e nelle società pubbliche. È indietro pure lei con il divario salariale, perché c'è un divario salariare tra uomo e donna da combattere. Solo l'Islanda ha fatto la legge. La Francia, diciamo che affanna come noi e ancora si dibatte sul certificato di verginità. Quindi per quanto riguarda l'equilibrio di genere, non credo che si possa dire che c'è qualche paese, a parte l'Islanda, che mi risulta essere molto molto avanti, quasi arrivato sul punto, ma non c'è un paese, uno Stato, dove si può dire che sia stato raggiunto quantomeno un equilibrio. Ecco perché, ancora di più, la rete ha inteso, diciamo, invitare i presidenti dei COA, ai quali adesso darò la parola, per suggellare una collaborazione. Una collaborazione come formazione sulla prevenzione, su tematiche che riguardano l'avvocatura tutta e che riguardano la parità di genere, l'equilibrio di genere. Devo dire la verità, sono molto attenti e mi auguro che lo siano ancora di più, perché, ripeto, è un momento in cui l'avvocatura ha bisogno di unità, ha bisogno di messaggi chiari per rafforzare quel ruolo che è un miraggio. Si è parlato dell'avvocato in Costituzione, come nell'ultimo congresso di Catania, ma è ancora un miraggio l'inserimento dell'avvocato in Costituzione, eppure ne avevano parlato, io sempre per uno studio fatto in occasione di questo convegno che mi ha fatto studiare, sono andata a vedere che era stato previsto anche dai padri costituenti quando è nata la nostra Costituzione, l'inserimento dell'avvocato in Costituzione, ma poi non è stato fatto. È stato fatto un tentativo, c'è stato un approccio, ma ancora siamo lontani. Quindi io ritengo, come ho sempre detto, che l'inserimento dell'avvocato e quindi della difesa in maniera più efficace e più preponderante in Costituzione sia veramente un punto di partenza per affermare il diritto di difesa che è bistrattato. E spesso, io vi lascio con una domanda provocatoria, dico siamo sicuri che non siano proprio le leggi a sminuire il ruolo dell'avvocato, perché attentati ne abbiamo subiti. Quindi dobbiamo forzare l'attenzione sul legislatore, perché noi abbiamo subito l'assalto con i minimi tariffari, abbiamo subito, si era ventilata per fortuna la soppressione degli ordini, si era ventilata la soppressione della cassa per rendere il nostro denaro, per darlo in beneficenza. Quindi di attacchi ce ne sono stati tanti, quindi la nostra attenzione deve essere anche incisiva sul legislatore, ma noi ci siamo. La rete c'è, è unita, lo dimostra questo evento. Siamo attive nel campo da molto tempo, adesso siamo ancora più attive perché ci stiamo allargando, stiamo andando a vedere a livello globale qual è la situazione sull'equilibrio di genere, per arrivare ad una parità. A parte che il termine pari opportunità adesso non comprende soltanto la parità di genere tra uomo e donne, ma come sapete si è allargato, c'è stata la discussione sulla transofobia, ma noi abbiamo l'attenzione anche sui disabili e sui minori. Quindi il termine è molto ampio, non è la solita, come dire, manfrina di uomo e donna o di donne che vogliono fare le femministe. Assolutamente no. E credo che lo abbiamo dimostrato con l'attività che abbiamo fatto, con la professionalità e la serietà che ha sempre contraddistinto tutti i comitati che si sono succeduti. Io quindi vi do il benvenuto. faccio gli auguri al nostro comitato per i 15 anni e sono lieta di festeggiarli insieme a voi con questo evento. Adesso do la parola al padrone di casa perché in assenza del nostro sindaco, il nostro past presidente dell'ordine, Avvocato Antonello Bevilacqua, è vice sindaco e quindi vi darà il componente OCF. Per dono per averlo omesso. Vi darà il benvenuto. Buongiorno a tutti. Effettivamente sto perdendo un po' l'identità perché sono principalmente avvocato. Sono nato da avvocato, da una famiglia di avvocati. Sono visceralmente legato a questa professione. Conosco tutti voi e sono felice di avervi incontrato da amici e di avervi rincontrato oggi dopo una mia pausa necessaria. perché io, ripeto, sono solo prestato alla politica. Non ho intenzione di fare la carriera politica. Continuerò a farla avvocato e mi sento avvocato nel profondo del mio cuore. Quindi sono qui con estremo piacere a salutarvi per conto dell'amministrazione comunale e di Paolo Mascaro, già presidente dell'ordine, prima di me, già avvocato, continuo a fare la professione. Io e lui abbiamo una vita comune. La mattina alle sette e mezza siamo in studio. Fino alle nove e mezza, dieci, stiamo in studio. Andiamo al comune. La sera alle sette, torniamo in studio. Perché non abbiamo intenzione, naturalmente, di mollare questa professione. Siccome ci crediamo moltissimo, quando un avvocato chiama, un avvocato risponde. Paolo Mascaro ha avuto questa idea per alcuni folli, anche per me folle, di riproporsi alla guida di questa città, è stato premiato dalla città con una vittoria fortissima, ha chiesto aiuto ad un altro avvocato e io ho detto immediatamente sì, senza alcun tentennamento. Perché l'importanza del ruolo sociale dell'avvocato deve estrinsecarsi anche nella salvaguardia dei territori e nel dimostrare che la competenza, la profondità, l'intelligenza degli avvocati può essere messa al servizio anche delle nostre comunità. Io sono qui, vi ripeto, però, principalmente come avvocato e sono felicissimo di essere a fianco alla nostra Presidente, con la quale abbiamo condiviso nel periodo della mia presidenza tutte le loro attività come Comitato Pari Opportunità. Ritengo che il vostro ruolo sia fondamentale, come è generalmente importantissimo il ruolo delle donne nella nostra comunità e nella nostra società civile. Non per niente, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di La Mezzia, dopo di me c'è una donna straordinaria, un'amica carissima che ha condiviso con me momenti anche molto brutti dell'avvocatura, quando qui si uccidevano gli avvocati, quando c'erano grandi attacchi all'avvocatura, anche da parte e soprattutto della magistratura. Questa è una cosa che dobbiamo dirla, una volta per tutte. La magistratura deve avere più rispetto all'avvocatura, Angela. Io lo dico, l'ho fatto nei momenti in cui facevo il Presidente dell'Ordine, continuo a farlo e continuo a dirlo. Quindi questa è una cosa che spero gli avvocati non dimentichino mai. Tutti, tutti, devono avere rispetto per l'avvocatura, che svolge un ruolo sociale fondamentale. Devo dire principalmente anche i magistrati, perché noi, insieme ai magistrati, svolgiamo un ruolo fondamentale per la giudiziazione. Loro, senza di noi, non vanno da nessuna parte. Noi, senza di loro, non andiamo da nessuna parte. Questo lo diceva Calamandrei quando diceva spesso dell'interscambio tra avvocati e magistrati. I magistrati dovrebbero fare gli avvocati per un certo periodo per capire cosa significa. Allora, ecco perché io qui oggi sono a salutarvi per conto dell'amministrazione, ma a salutarvi principalmente come avvocato. Cosa che continuerò a fare per il resto dei miei giorni? Mio padre, seconda generazione di avvocati, ha 94 anni e viene ancora in studio. Mio figlio è la quarta generazione di avvocati. Io mi auguro che il figlio di mio figlio farà la quinta generazione di avvocati bevi l'acqua. Quindi teniamo... Eh, esatto, esatto. Quindi, beh, importantissimo. Quindi io saluto indistintamente tutti voi senza citarvi, senza parlare dei nostri e vostri incarichi perché poi dimenticherei qualcuno. Sono felicissimo, vi saluto naturalmente in questo momento anche a nome della città di La Mezzia Terme. Buon lavoro a tutti e un abbraccio a tutti. Rimarrò ancora un po' fino a quando non mi chiameranno. Paolo Mascaro è assente perché è in regione dove stanno discutendo... Adesso non manca mai. Assolutamente. Stanno discutendo un progetto importantissimo che è il collegamento della stazione di La Mezzia Terme con l'aeroporto di La Mezzia Terme. È un progetto importante. Oggi ci sono i progettisti, quindi vi saluto anche lui e non sarebbe mancato. Grazie di nuovo a tutti. Grazie a tutti. Condivido il pensiero di Antonello. Un vivo grazie, soprattutto per la passione, perché questa è una professione che se non hai la passione non la fai o la fai male, perché è diventata talmente difficile e talmente logorante che se non si è la passione non si va da nessuna parte. Condivido il pensiero di Antonello ancora di più perché l'attacco c'è stato anche da un esponente dell'antimafia, Morra, che dice che è la colpa delle lungaggini processuali e del malfunzionamento della giustizia e degli avvocati. Quindi una reazione equilibrata e una risposta bella ferma la dobbiamo dare ma, ripeto, con l'unità, facendo squadra e facendo gruppo perché ci sarà qualche collega che esce un po' fuori dalle orbite ogni tanto ma credo che comunque la categoria sia una categoria degna di tale nome e che svolga il suo lavoro tutte le mattine con grande impegno e grande professionalità. Adesso do la parola al nostro presidente co-avvocato di Namarasco una donna alla guida del nostro co-a forse la prima la prima, vero, confermi? Ma non l'ultima? No, no, speriamo di no però sti maschetti, poverini tra un po' faranno loro le lotte per le quote di genere Devo parlare di questo coso? Sì, perché viene registrato Allora, io sono molto felice oggi di salutare di portare il saluto mio personale e di tutto l'ordine degli avvocati che rappresento alla rete dei comitati di pari opportunità calabresi e in particolar modo alla neoletta neo-insediata presidente Angela Davoli che non ho avuto modo ancora di diciamo con la quale non ho avuto ancora modo di complimentarmi non c'è stata mi pare una cerimonia di insediamento è questa quindi non avevo avuto occasione di soffermarmi su questo ruolo quindi voglio dire mi sento di dire che Angela sicuramente è una persona eccezionale e sarà sicuramente all'altezza di questo difficilissimo e impegnativo ruolo che la attende è una donna che ha sempre saputo coniugare la femminilità con una innata autorevolezza a volte condita da qualche gridata da qualche ruggito per cui insomma io la definirei una leonessa una vera leonessa quindi credo che sia veramente adatta a questo ruolo molti a dire il vero la definiscono in un altro modo parlano di Angela proprio l'altra volta ne parlavamo con Angela di una donna con pensate a a una coppia di attributi maschili ed è curioso riflettere su questa espressione che sottende sicuramente è orribile se ci pensiamo è profondamente sessista perché sottende l'idea che la donna per essere valida debba per forza prendere in prestito dagli uomini qualche cosa debba mascolinizzarsi è così brutta però bisogna dire che ancora esprime un'idea molto radicata nella nostra cultura nella nostra società credo che sarebbe questo potrebbe essere anche un tema interessante per un convegno lo lancio lì ai vari comitati come idea così per un prossimo confronto e come ricordava Angela il nostro comitato è sorto già prima dell'istituzione con la legge professionale e la nostra legge professionale è stata la prima a istituire i comitati pari opportunità io devo confessare che quando sono stati istituiti questi comitati quindi rispetto a questi comitati così come rispetto anche alla tematica delle quote rosa non ho all'inizio manifestato un grande entusiasmo e vi spiego perché io credo di avere subito un trauma ricordo ancora quando bambina non ricordo esattamente che te avessi ho scoperto di appartenere a una categoria cosiddetta debole ricordo ancora esattamente la pagina di un libro non ricordo di un libro di scuola che cos'era e ricordo proprio di aver letto la parola donne nelle varie categorie di soggetti deboli e questa cosa mi sconvolse in un modo incredibile cioè una cosa di cui non mi capacitavo e allora non esistevano le fake news ma io ritenevo davvero di essere imbattuta in un errore e oggi crescendo mi rendo conto che invece i comitati costituiscono un baloardo indispensabile fondamentale una vera scommessa per il futuro perché sono figli di quella di quell'ideale bellissimo cristallizzato in articolo 3 della Costituzione che è l'uguaglianza formale e sostanziale di tutti e quindi credo che noi oggi più che mai con forza e determinazione dobbiamo difendere il ruolo dei comitati e potenziarne l'azione mi sento poi insomma di fare una riflessione non so se quanti di voi la condividano mi sembra che nell'ambito dei comitati di pari opportunità vi sia un deficit di presenza maschile di presenze maschili mi pare che le presenze maschili siano veramente delle mosche bianche io questo proposito proporrei veramente seriamente di introdurre le quote azzurre perché non è possibile e questo ci sono ci sono sì ok però evidentemente non hanno ancora dato i propri frutti perché io perché io non vedo ok da noi invece sono solo tutte donne sono sempre state tutte donne e mi sembra che questa tendenza comunque esprima un po' un retaggio culturale cioè l'idea che queste tematiche che la tematica delle pare opportunità debba riguardare debba interessare interessi solo le donne il che insomma non mi sembra una cosa molto molto positiva qualche giorno fa mi sono imbattute una notizia curiosa che sicuramente anche voi avrete letto cioè l'assessore all'urbanistica del comune di Milano un uomo ha rifiutato di prendere parte a un convegno perché il parterre di relatori era composto da soli uomini e questa cosa mi ha molto colpito perché da una parte appunto evidenzia come certe tematiche iniziano a trovare ad essere recepite anche nella sensibilità degli uomini dall'altra mi ha dato a pensare perché sono andata con la mente a tutti i convegni soprattutto fino a poco tempo fa non avevo riflettuto mai su questa cosa ma in effetti pensando a tutti i convegni passati io vedevo tutte queste queste schiere di uomini senza alcuna presenza femminile e la cosa assurda è che per noi donne questa cosa era tutto sommato normale non era fonte di disagio di insomma disappunto ecco perché io penso che veramente il cambiamento debba partire prima di tutto da noi stesse prima che insomma certamente non arriva dall'alto ritengo che è quindi sia essenziale lavorare insieme i consigli dell'ordine e i comitati perché questa delle pari opportunità è davvero una scommessa non riguarda evidentemente solo le donne anche se normalmente viene associata soprattutto a questa tematica ma riguarda temi fondamentali che non sto qui a ricordare perché insomma sono ben noti su questo io voglio dire il consiglio dell'ordine quest'anno da quando si è insediato ha istituito una commissione la commissione per le politiche sociali che dovrebbe servire nel nostro intento purtroppo il covid ha un po' bloccato le nostre attività a tenere un contatto a fungere da 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 unione diciamo tra il comitato di pari opportunità e il consiglio e all'interno di questa commissione abbiamo voluto che si adesse un membro esterno portatore di disabilità e questo credo debba essere non un'eccezione ma debba essere una regola per il futuro tutte le categorie devono essere adeguatamente rappresentate e devono essere in grado di poter portare le loro istanze ad esempio l'idea recente di esonerare di prevedere un'esenzione per i disabili proporzionata al grado di invalidità che noi andremo a deliberare nei prossimi giorni è un'idea che mi è venuta dalla richiesta di un mio praticante che è un disabile un cieco completamente cieco mi chiedeva quanto dovesse pagare per accedere al patrocinio sostitutivo e lì mi sono resa conto che non era prevista nessuna esenzione quindi insomma c'è sicuramente tantissimo da fare io ricordo che all'indomani del mio insediamento ho avuto una conversazione con la nostra presidente del CPO Angela Davoli e con la seretaria Mariannina Pileggi scusami scusami vabbè insomma sorvoliamo sorvoliamo comunque in quell'occasione io ebbe a fare una sfermazione un po' forte io ho detto ad Angela e a Mariannina che avrei voluto vedere il giorno in cui i comitati di pari opportunità saranno aboliti sulle prime io ho notato una sorta di rigidimento delle mie interlocutrici e delle mie interlocutrici poi hanno ben capito cosa intendessi dire cioè nel momento in cui non ci sarà più bisogno di voi non ci sarà più bisogno del comitato di pari opportunità vorrà dire che abbiamo raggiunto gli obiettivi vorrà dire che l'uguaglianza i temi dell'uguaglianza della parità delle pari opportunità saranno diventati sostanza del nostro vivere quotidiano ora io spero anzi sono sicura che vedrò quel giorno ho 52 anni quindi ancora credo di insomma di avere tempo faccio l'avvocato da ormai quasi 30 anni e sono diventata presidente di un ordine che non aveva mai avuto un presidente donna e lo sono diventata devo dire senza quaterosa senza bisogno di tutte le speciali eh vabbè quindi io credo io sono profondamente ottimista su questo ritengo che appunto il vero cambiamento parta da noi stessi e da noi stesse in prima in prima persona e mi auguro davvero che si possa lavorare insieme che davvero i consigli possano prendere tanto dall'attività dei comitati per poter davvero costruire insieme una vocatura migliore e un mondo migliore quindi faccio i miei auguri a tutti di buon lavoro e resto in attesa di altri appuntamenti come questo perché dobbiamo intensificare sicuramente e sempre di più il confronto e la unità di azione grazie a tutti allora io adesso do la parola ai presidenti COA e non so chi darla per prima quindi mi sembra carino è paritario seguire l'ordine alfabetico quindi mi pare che cominciamo con Catanzaro giusto poi è distrettuale poi è distrettuale gli altri a dirlo non potevo dirlo io se no passo per quel io ho parlato di ordine alfabetico poi benvenuto allora innanzitutto sì sì allora innanzitutto veramente ringrazio per l'invito e per il coinvolgimento parlo del mio ordine ma penso che sarà un sentire comune ritengo invece di evidenziare un aspetto importante io molti di voi le conosco da tanto da tanto tempo e so che siete un braccio armato reale le donne in generale sono un braccio armato perché hanno sempre ragione loro quindi io mai ho osato oppormi a questa diciamo filosofia anche di vita no 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 non è brutto si fa sempre polemico qualsiasi cosa possa dire quindi io dico partendo da questo a parte gli scherzi mi fa piacere vedere la compattezza nonostante naturalmente nel comporre una squadra possono esserci delle fisiologiche contraddizioni anche a volte istintive passionali ma quello che più conta io lo vedo anche grazie al lavoro importante che svolge il comitato pari opportunità a me più vicino che è quello di Rosalba Viscome perché dico che è quello di Rosalba Viscome perché lo ha creato lei se ne è andata è ritornata e lo ha ripreso nuovamente pur avendo fatto un grandissimo lavoro anche chi è stato in sua sostituzione ma la passione naturalmente il tempo che dedica Rosalba come ritengo anche per quello che ho avuto modo di apprezzare anche gli altri presidenti del CPO è ammirevole perché spesso ritengo che questi organismi siano sottovalutati e da parte degli ordini in generale non parlo di quelli calabresi ma in generale ma venga anche sottovalutato sotto il profilo anche dei contenuti a livello congressuale a livello nazionale a livello di CNF dico questo e ne approfitto proprio due secondi un passaggio la mia piena solidarietà al CPO di Reggio Calabria per essere stato convocato dal proprio consiglio dell'ordine per essere stato sostanzialmente ma anche formalmente censurato da parte del proprio consiglio dell'ordine ritengo grave grave da parte anche nostra quello di non essere usciti con un documento che dovremmo uscire io ho parlato anche con il presidente facente funzione del CNF alla quale ho ricordato il ruolo che lei ha avuto e se non è lei ad assumere naturalmente una posizione netta e importante non ne usciamo neanche bene sarà modo anche da parte mia di sollecitare il CNF ho parlato non soltanto con la massima ho parlato anche con altri consiglieri per chi non l'avesse saputo ed è importante parlare e dirci queste cose anche tra di noi non è un attacco al distretto di Reggio assolutamente con cui abbiamo e avremmo sicuramente degli ottimi rapporti per il futuro lo speriamo perché al momento siamo anche fermi per quanto riguarda l'unione dei fuori calabresi anche questo è inammissibile se non pensate basti pensare che l'unione dei fuori nelle altre regioni sono la struttura trainante di tutto l'apparato istituzionale dell'avvocatura detto questo e concludo passo alle cose belle perché queste sono cose che poi dovremmo affrontare con più tempo io voglio rilanciare anche un'altra cosa noi dobbiamo compattarci non solo ordine e il corrispondente del CPO del proprio circondario distretto ma dobbiamo compattarci perché laddove l'unione dei fuori affronta determinate questioni è ovvio che dobbiamo avere la misura di un percorso più ristretto perché ormai le notizie le informazioni le reazioni devono essere tempestive devono essere immediate quando capita e accade qualcosa uscire con un documento dopo un mese non ha più senso non ha più senso da un punto di vista politico forense non ha più senso da un punto di vista istituzionale non ha più senso nella percezione che i nostri iscritti hanno della capacità di reazione da parte del proprio ordine noi come consiglio dell'ordine di Catanzaro siamo usciti anche prendendo una posizione contro Morra evidenziandogli che bene farebbe a svestirsi un po' dei panni di attivista di partito di movimento e assumere quelli di presidente a parte l'attacco legato alle disfunzioni del sistema giustizia che non può essere assolutamente collegato al numero degli avvocati perché come sappiamo tutti ai 240.000 iscritti pochi di questi esercitano effettivamente quindi il numero è piuttosto relativo alle carenze di organico strutturali finanziarie del sistema giustizia a tutti quelli che sono naturalmente le problematiche che noi tutti conosciamo ha attaccato anche sotto il profilo del gratuito patrocinio perché assumerebbe una quasi collusione tra i apparati dell'agenzia delle entrate e i controlli cosiddetti blandi da un punto di vista fiscale coinvolgendo definendoci subito la mente specialisti della giustizia ma il chiaro riferimento era ovviamente agli avvocati invece voglio sottolineare il fatto e questo noi l'abbiamo marcato e demarcato il fatto che nelle audizioni della commissione parlamentare antimafia siano stati ascoltati tutti gli enti territoriali tutte le autorità giudiziarie addirittura le associazioni neanche riconosciute ma non siano stati ascoltati i consigli dell'ordine in particolare ho ricordato a Morra che noi siamo un ente pubblico che noi addirittura esprimiamo dei nostri componenti nei consigli giudiziari che noi addirittura componiamo le commissioni permanenti presso i distretti di corte d'appello quindi ad una sua ignoranza tecnica istituzionale noi dobbiamo però secondo me avere una reazione non per dargli importanza perché poi il personaggio è quello che è e mi rendo conto che non è bello che un calabrese che rivesta questo ruolo importante attacchi proprio la Calabria e penso che sia un modo più che altro suggestivo di come al solito darsi un pennacchio anche per l'atteggiamento che si ha mi sarei aspettato invece un coinvolgimento dell'avvocatura perché l'avvocatura come ho spiegato a questo signore è vero che non siamo in costituzione però evidenziamo che all'articolo 24 della carta costituzionale il diritto di difesa è un diritto inviolabile quindi il diritto di difesa che rappresenta la vera attività dell'avvocatura è già contenuto nella carta costituzionale non vorrei dire il diritto di difesa lo esercita solo l'avvocato e non i magistrati quindi non dimentichiamo mai questi passaggi questo lo dico perché naturalmente quello che sta capitando dipende un po' dalla scarsa autorevolezza che l'avvocatura ha oggi quando noi diciamo che fine abbiamo fatto è vero abbiamo avuto degli attacchi legislativi cosiddetti perché le riforme se andiamo a fare un'analisi brevissima sono sostanzialmente l'introduzione di nuovi cavilli di nuovi termini perentori che non vanno sicuramente a vantaggio dell'esercizio del diritto di uno stato sociale o di diritto ma di uno stato economico che tende probabilmente a fortificare alcune posizioni lobbistiche o oligarchiche a danno ovviamente di quelle che dovrebbero essere le situazioni soggettive meritevoli di tutela stringo perché poi parlo troppo io io sono molto contento del rapporto che si è creato nel distretto di Catanzaro con gli altri ordini perché c'è una grande sintonia ogni tanto possiamo anche non condividere qualcosa ma l'unanimismo non può esistere nel momento in cui c'è un animismo vuol dire che qualche componente risente o difetta anche di un profilo critico questo lo dico perché deve essere funzionale anche a quello che può essere l'interazione con la vostra struttura con la vostra rete e allora sarebbe bello oggi rilanciare qua e spero che lo facciate anche sulla carta stampata rilanciare l'idea che l'avvocatura calabrese sia tutta unita e oggi magari anche nel celebrare la vostra nuova compagine può essere naturalmente anche motivo in modo per rilanciare quest'idea di autorevolezza non saremo mai autorevoli non dobbiamo essere autoritari dovremmo essere autorevoli anche agli occhi della magistratura nei momenti in cui siamo uniti e compatti non è bello vedere i colleghi che fanno le spallucce per accattivarsi la simpatia del magistrato non è bello neanche vedere i colleghi che si lamentano per la qualunque senza però avere sempre in considerazione quelli che sono i dati oggettivi del malfunzionamento o delle procedure elefantiiche del sistema giustizia è anche vero e questo lo sappiamo tutti che all'interno dell'avvocatura ci sono per fortuna non tanti anche se sotto certi aspetti sono molti oggi se andiamo da un punto di vista numerico alcuni elementi che patologicamente infettano la visibilità l'immagine il decoro della nostra professione e qua la responsabilità è di chi rappresenta ovviamente le istituzioni dell'avvocatura dal CNF a scendere io voglio evidenziare e veramente come abbiamo parlato con Antonello più volte ci siamo sentiti anche ieri ci siamo visti anche ieri voglio evidenziare invece il grande lavoro fatto dall'OCF nel periodo della pandemia perché è stato veramente quell'ente che ha tutelato e ha preso una posizione e voglio ricordare che è proprio grazie a loro che si è iniziata a pensare a un primo blocco a una prima reazione a tutela non dell'avvocatura ma di tutti anche dei cittadini perché dietro un avvocato c'è una famiglia e via dicendo questo per dire cosa che noi dobbiamo essere probabilmente da stimolo anche nei confronti del CNF e di chi rappresenta strutture gerarchiche superiori a quella che potrebbe essere la funzione ordinistica questo lo dico perché purtroppo anche il nostro CNF in questo momento vive un momento di grande debolezza non fosse altro perché a quella sospensione di quei nove componenti del resto trattasi di nove componenti realmente attivi io ho grande ammirazione per Mascherin come anche per tutti gli altri come per Baffa che è stato un nostro grandissimo rappresentante per garbo per cultura per interesse e per disponibilità oggi però noi siamo lacunosi anche in questa rappresentanza ed è gravissimo probabilmente ci sarà ancora un seguito sappiamo tutti che questo provvedimento è immediatamente esecutivo quindi al CNF stanno discutendo se effettivamente procedere ad elezioni o no per quello che risulta a me ci sono delle forze confliggenti o centrifughe come le vogliamo definire che ovviamente per strategie anche elettorali per chi è interessato a ripresentarsi o magari essere il prossimo presidente ancora non fanno ben comprendere cosa accadrà detto questo faccio l'imbocca al lupo a tutti spero sempre in un'avvocatura della Calabria unita perché questa è la nostra vera forza noi siamo istintivi siamo passionali ma abbiamo anche una grande capacità organizzativa e concludo in questo modo che ereditiamo sicuramente dalle donne grazie al presidente di Catanzaro che per la verità è sempre presente anche ai convegni organizzati dal CPO ti minaccia fa bene in ordine alfabetico Castro Villari e allora in ordine alfabetico chi c'è Cosenza buongiorno a tutti grazie dell'invito una organizzazione stupenda della giornata un evento che ci voleva effettivamente molto gradito tutti i momenti di unione tra le varie voci dell'avvocatura non devono essere naturalmente sottolineate e viste con grande favore faccio gli auguri al presidente della rete e a tutti i presidenti del CPO della Calabria che sono qui riuniti io ritengo che il CPO sia una costola dell'ordine professionale non è una cosa avulsa dal Consiglio dell'ordine è proprio una costola ha sede nel Consiglio dell'ordine è finanziato dal Consiglio dell'ordine e in un certo senso figlio del Consiglio dell'ordine naturalmente con una sua propria autonomia e soprattutto mi piace sottolineare che l'avvocato in genere è un difensore noi siamo i difensori dei cittadini di tutti il comitato pari opportunità sublima la funzione del difensore perché difende gli ultimi i diseredati le persone che sono trattate peggio che si trovano in una condizione di discriminazione quindi la funzione dell'avvocatura trova nel comitato pari opportunità la sublimazione proprio della sua attività forense si è detto e si ripete sempre l'avvocatura deve essere unita si è fatta rete e si è fatta questa rete che è una cosa bellissima ma nessuno spiega le ragioni per cui è necessario essere uniti si ripete quasi come un mantra l'avvocatura deve essere unita deve essere unita il presidente Davoli ha prima detto ci stanno tentando di togliere i consigli dell'ordine stanno tentando di toglierci la cassa stanno tentando di distruggerci di eliminare la categoria perché la prima cosa che dobbiamo spiegare ai nostri iscritti perché è importante che esista il consiglio dell'ordine è un concetto quasi sconosciuto all'avvocatura gli avvocati molto la vivono il consiglio dell'ordine quasi come una limitazione una seccatura perché devono andare a pagare un importo e non sanno che cosa fa per loro il consiglio dell'ordine voi troverete questo esperimento ma il consiglio dell'ordine per me che cosa fa ti fa esistere tu avvocato esisti in quanto c'è un consiglio dell'ordine noi siamo deputati alla tenuta dell'albo ed entra nella nostra categoria soltanto chi ha i requisiti per farne parte è una discriminante pazzesca che fa il distinguo tra essere avvocato e non essere niente perché l'obiettivo se togli i consigli dell'ordine è quello di far fare l'avvocato a tutti c'è il diritto di difesa dove è scritto che deve essere fatto da un avvocato per fortuna è intervenuta la corte costituzionale dicendo che in alcuni processi la parte può anche rifiutare l'avvocato ma l'avvocato ci deve essere nel senso che deve verificare che le condizioni tecniche del processo siano rispettate che è una cosa fondamentale per la libertà del cittadino successe in occasione delle brigate rosse fatti notissimi per cui fu ucciso il presidente dell'ordine di Torino dove i brigatisti dicevano perché io non voglio essere difeso non vi permettete di difendermi sono stati difesi non entrando nel merito ma soltanto riferendo e poi la corte costituzionale diede ragione all'avvocatura su questa impostazione che il diritto di essere difeso significa di verificare che le regole del processo vengano rispettate e ci vuole una figura tecnica per fare questo se no finisce la civiltà e chi controlla che ci sia una figura tecnica sono gli ordini siamo di un'importanza fondamentale ne aggiungo un'altra che mi piace ricordare sempre tutti i poteri dello Stato hanno e questo ce lo dobbiamo ricordare hanno pesi e contrappesi il presidente della Repubblica non ne parliamo Parlamento Governo l'unico che non ha pesi e contrappesi nella Costituzione è la magistratura che si dice la magistratura è soggetta soltanto alla legge c'è un'espressione più vaga di questa chi è che non è soggetto alla legge tutti siamo soggetti alla legge perché non c'è un contrappeso perché il contrappeso della magistratura siamo noi che nelle aule di giustizia criticando il comportamento del magistrato facciamo camminare nei binari della giustizia il processo siamo noi che impugniamo e critichiamo il provvedimento non può fare quello che vuoi perché il contrappeso siamo noi questa consapevolezza della figura dell'avvocato è fondamentale e il CPO in questo c'è una posizione addirittura predominante secondo me proprio per il fatto che assiste persone indifese diciamo o comunque discriminate e volevo fare un'altra osservazione che era stata fatta una piccola critica io come presidente del consiglio dell'ordine non adoro invitare i magistrati ai nostri convegni e invito tutti gli ordini a fare come faccio io se lo condividete evidentemente cioè il fatto di stare dall'altra parte e ascoltare un magistrato che ci guarda come il docente e noi come i discenti è una cosa che io odio da quando avevo 22 anni che mi sono avvicinato a fare l'avvocato mi ha sempre dato non sono mai entrato nell'aula di un giudice come purtroppo qualcuno fa a chiedergli come si fa una cosa assolutamente tanto che appena apriremo la nuova sede della scuola forense metterò un servizio per i giovani avvocati dove potranno lasciare i loro problemi e noi dire cosa devono fare qual è la loro bravesse non lo posso scrivere ma più o meno il senso è questo e quindi anche ai convegni io li invito perché se ci vogliono venire a sentire hanno sicuramente da imparare e il nostro concetto deve essere quindi questo noi siamo una categoria assolutamente non subalterna e poi si è detto ci devono portare rispetto il rispetto dice il nostro codice deontologico deve essere a condizioni di reciprocità ma vi aggiungo che anche quello dei magistrati dice la stessa cosa perché anche loro hanno un codice deontologico che dice che con l'avvocato il rispetto deve essere a condizioni di reciprocità e questa è una cosa che ogni tanto quando qualcuno alza la voce o ha un comportamento diciamo non consono a quello che è la figura sia di avvocato che di magistrato non è sbagliato ricordarlo detto questo vi saluto perché ho parlato già troppo forse più di quello che dovevo dire sono contento quindi che sia stata fatta questa rete perché l'unione poi ci consente di difendere proprio questa nostra categoria e l'unione come ha detto Antonello giustamente che ci fa è la forza d'impatto anche come ordine sapere i magistrati tutti che c'è un ordine dietro ogni avvocato ha il suo peso perché noi interveniamo lo facciamo veramente naturalmente quando le questioni sono importanti e di principio non scendiamo nella difesa del singolo avvocato questo non dobbiamo sbagliare noi come presidenti e anche voi come comitato pari opportunità dovete stare attenti perché noi non ci possiamo consentire di sbagliare e quindi è un nostro è un lavoro di riflessione non si può essere impulsivi si devono fare le cose che si possono fare e dobbiamo cercare sempre di avere ragione quando facciamo qualche recriminazione però concludo dicendo in bocca al lupo a tutti quanti e complimenti per il lavoro e anche per l'idea di aver fatto una rete del CPO grazie e buon proseguimento grazie avvocato galluzzi l'avvocato pace foro di paola comunque siete bellissimi nel senso che è bella questa 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 queste battute sono un segnale di amicizia perché gli avvocati devono essere anche amici cioè innanzitutto grazie per l'invito auguri al presidente e a tutto lo staff cioè io non so se devo fare un discorso serio o semiserio si sono registrato cioè c'è il fatto io aver preferito che il CPO invitasse me e la mezza perché la canzone di Califano tutto il resto è noia la canzone di Califano tutto il resto è noia potevano fare a meno di invitare loro e la mezza mi scuso con Andrello perché ci lega un rapporto di amicizia con altre volte scherzi a parte allora io io condivido tutto quello che hanno detto i colleghi che hanno parlato prima di me tenendo presente che anche io mi ritengo un ordinista ci sono all'ordine del 96 c'è qualcuno che ha detto che è il tempo che me ne vado infatti il 2023 ce ne andremo volevo soltanto dire che da quando sono diventato io presidente all'ordine di Paola c'è stato solo 15-20 anni fa solo il segretario che era una donna con la mia presidenza ho voluto fortemente ho voluto ho voluto fortemente la terza carica che penso che è una vostra conoscenza che è Marela Tripicchio che ha fatto parte del CPO del CPO presidente del CPO di Paola che dirvi io sono d'accordo su tutto quello che è stato detto vi dico anche un'altra cosa io ho brindato per parlare dell'avvocatura indesa come baluardo e come forza non so se voi sapete meglio di me che prima il cosiddetto giuramento adesso si parla di impegno solo che ne si faceva quando giurava un avvocato davanti a un collegio di magistrati adesso siamo contentissimi che l'abbiamo ripreso noi insomma infatti dico sempre ai colleghi che vengono a giurare presso di me questa cosa qua dico anche un'altra cosa io penso che molti giovani dovrebbero dico anche questo quando facciamo l'impegno solenne a noi non interessa se saranno sempre in riferimento all'avvocatura alla forza dell'avvocatore non interessa se saranno la procedura civile o la procedura penale queste saranno loro a farlo nel corso della loro carriera ma ci interessa far studiare un po' di più la deontologia professionale perché forse dei valori si sono persi ultimamente del coro non so se l'articolo 3 e 7 8 non ricordo anche perché sto invecchiando ritornando al discorso meno serio io non ho la storia come quella di di Antonello che vengo da una famiglia di se ne andate per il peccato però potete riferirlo perché mi vado a querrare da solo ma non è nessuna nessuna offesa poi mi leggo il rapporto di amicizia con Antonello non ho la storia come lui di avvocati io vengo da una famiglia di farmacisti e infatti voi vi domanderete perché hai fatto l'avvocato nel farmacista ve lo spiego siccome ero destinato tanto siamo destinato quando aiutavo papà oltre ad essere alla cassa perché come tutti i figli rubavo qualcosa ma ero preposto ai zigoli e ai profilattici alla fine della cassa quando facevamo ricavi e perdite siccome giocavo al calcetto perdevo sempre allora forse ho detto vai a fare meno danni nell'avvocatura tenendo presente però da parte mia madre mi vando con questo non voglio dire che ho questa cultura come il nome che vado a dire mia madre è cugina del mortati il costituzionista e anche qua forse lui quanto è saputo che faceva l'avvocato io bravo bravo detto questo scherzo a parte per stigmatizzare io vi auguro un buon lavoro sono certo vi aspettiamo a Paola e so che questa è la prima riunione e siamo sono felice di essere qua insieme a tanti amici mi hanno tampinato sia il presidente del qua di Paola che la vicepresidente mi hanno detto di venire ma sarei venuto lo stesso io vi ringrazio e vi auguro un buon lavoro a tutti grazie presidente come dicevo è bello vedere questa armonia tra i presidenti COA che è auspicio veramente di armonia e di unità perché le battute così belle così vivaci sono segno parte di una vivacità personale quindi di una di un'attività e di una passionalità non comune ma anche evidentemente di un'amici che sta che sta alla base si rubiamo tantissimo tempo alle famiglie non è capito però speriamo che il giovane capiranno la forza diciamo che la moglie sono 24 anni che l'ha lasciata all'ordine comunque adesso diamo la parola al presidente di Vibbo io mi rifluto io mi rifluto perché sto con solidarietà verso Dina come il fratello solo femminile no 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 le tocca le tocca avvocato surage grazie scherzi a parte però è vero è un problema questo così come segnalato da Dina nel senso che probabilmente anche noi dobbiamo imparare noi uomini maschietti il mestiere della pari opportunità che evidentemente c'è estraneo culturalmente anche storicamente concettualmente non ci si arriva a certi approdi che sono di alta profilatura appunto alle pari opportunità con un segno di matita sono approdi che hanno a che fare con la nostra storia con la nostra storia culturale intellettuale sociale emotiva anche quindi questo parterre tutto al femminile io l'ho detto così scherzosamente ha un significato e ha un significato che dovrebbe indurre tutti quanti noi ad interrogarci sul senso delle opportunità è stato detto molto bene il comitato pari opportunità mi pare l'abbia detto il presidente di Cosenza Vittorio il comitato pari opportunità allude piuttosto che ad un momento autoreferenziato in qualche modo dell'avvocatura allude ad un livello che è molto più elevato dell'articolo 3 della Costituzione cioè è all'interno dell'avvocatura che già di per sé ha questa mission straordinaria di essere vicina e sodale con gli ultimi questo è proprio il grande senso dell'avvocatura quello di partire dagli ultimi per poi gradualmente per venire all'equilibrio di sistema ma il punto di partenza dell'avvocatura è l'ultimo e quindi la radice e la matrice dell'articolo 3 della Costituzione il comitato pari opportunità in qualche modo è uno degli elementi attraverso cui si invera il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione cioè il comma della rimozione degli ostacoli di ordine sociale morale religioso razziale di genere che impediscono alla persona umana di svolgersi e di svilupparsi con pienezza nella nostra società il comitato ha esattamente questo taglio come posso dire teleologico in qualche modo cioè quello di essere uno degli strumenti predisposti pensati dai costituenti del 48 perché venissero rimossi gli ostacoli che impediscono alla persona di svolgersi e di svilupparsi pienamente nel sistema sociale nel sistema economico in generale quindi sotto questo profilo il ruolo del comitato pari opportunità che non sono solo questione come giustamente ha detto la Presidente della Rete un tema di genere ma sono un tema generale to cure sulle pari opportunità quindi abili disabili uomo donna ricchi poveri eccetera eccetera bianchi neri e via di seguito e quello in senso ormai l'approdo del comitato pari opportunità è uno dei tasselli fondamentali bene è stato detto quando si è riferito che i comitati sono parte integrante essenziale vitale degli ordini non solo perché sono organismi elettivi e questo già da loro da una legittimazione straordinaria sovrana in qualche modo ma proprio perché hanno un'attitudine connaturata a concorrere con l'ordine nella riflessione sul senso dell'avvocatura sul ruolo dell'avvocatura sull'impatto dell'avvocatura sulle relazioni istituzionali e sociali cui l'avvocatura è tenuta mi fa piacere riprendo anche le conversazioni che sono state dette già dai colleghi il fatto che il comitato pari opportunità sta riuscendo dove l'avvocatura ordinistica non sta riuscendo con riferimento all'orizzonte Calabria cioè l'orizzonte Calabria in questo momento vede il comitato di pari opportunità capace di sintetizzare di unirsi sintetizzarsi e trovare un cammino comune l'avvocatura ordinistica sta incontrando grossissime difficoltà perché questo possa essere fatto e questo è un male perché l'unione forense è come posso dire l'organismo in qualche modo politico la voce comune dell'avvocatura in una terra difficile e complessa quella calabrese che ha bisogno di voci autorevoli di voci diffuse di voci diciamo plurime in qualche modo che vengano da altri da tanti contesti in occasione dell'ultimo incontro che abbiamo avuto noi a livello di distretto stavamo proprio pensando riflettendo sull'utilità di organizzare dei momenti di riflessione comune sul ruolo dell'avvocato in Calabria soprattutto il tema non è soltanto l'onorevole Morra che semplifica sintetizza e banalizza mi pare la questione ma il tema è molto più complesso e attiene all'organizzazione della giustizia nel nostro sistema territoriale attiene alla considerazione sociale che l'avvocato riesce in qualche modo ad ottenere e a guadagnarsi in questo territorio che ha vinto da tali e tali e tanto gravi disordini e disorganizzazioni del sistema da venire opacizzato in qualche modo nella sua capacità di essere la punta di diamante della società l'avvocato che è persona per definizione e per elezione intellettualmente proba ed intellettualmente alta ed altresì deontologicamente proba e deontologicamente alta lo dice anche qui è stato detto benissimo l'articolo 24 della Costituzione che definisce il diritto di difesa inviolabile dunque per simmetria allude ad un'avvocatura che è inviolabile che deve essere inviolabile messa nelle condizioni di rendere inviolabile il diritto di difesa e i diritti di difesa bene questi diritti di difesa nel nostro sistema territoriale sono violati costantemente ma sono violati costantemente per un deficit del sistema giustizia di corrispondere alla domanda di giustizia e quando la domanda di giustizia viene citata con ritardo o con fatica o con approssimazione peggio chi fallisce è il sistema sociale nel suo complesso e ciò che si opacizza maggiormente non è la figura del magistrato del sistema ciò che si opacizza è la figura dell'avvocato che è il frontman in qualche modo dell'intero sistema noi siamo quelli che fronteggiano il pericolo le onde noi siamo quelli che stanno davanti ai marosi e se i marosi sono placchi come capita in alcune zone d'Italia e d'Europa e allora il pericolo è poco ma se i marosi sono uno tsunami con le onde alte 10 metri noi rischiamo non solo il nostro tempo ma rischiamo qualcosa di più prezioso che la nostra credibilità e in alcuni casi rischiamo anche la nostra vita per cui io saluto con grande gioia questa rete che si è costituita faccio gli auguri a tutte quante per il lavoro che insieme si andrà a fare ringrazio per l'invito ringrazio tutti gli avvocati perché siamo straordinari grazie prima di dare la parola alle presidenti dei comitati volevo fare un piccolo inciso e volevo diciamo lanciare un messaggio di speranza perché prima ho sentito di questa guerra tavica che purtroppo continua con la magistratura che spesso è la prima a bistrattarci però sentivo anche di colleghi che fanno i bellocci con i magistrati eccetera per ringraziarsi per ringraziarseli e quindi credo che tocchi a noi cioè farci rispettare dalla magistratura tocchi a noi perché quel ruolo sociale dell'avvocato di cui si parla tanto ce l'abbiamo ma dobbiamo anche esplicarlo con forza autorevolezza e soprattutto con dignità per fortuna però i magistrati non sono tutti uguali infatti prima di dare la parola alle colleghe mi premeva a leggervi una frase delle frasi che mi hanno colpito molto del sostituto procuratore di Torino che è Paolo Brogna e che ho letto in occasione anche di un convegno anche quello molto bello per dire le pari opportunità che sono capaci di fare che vanno a trovare di tutto e di più Crotone lunedì ha svolto purtroppo sempre perché è bella la presenza infatti è stato bello avervi con le dovute precauzioni in presenza perché dietro quel video non è la stessa cosa e quindi anche in occasione di quel convegno che era la difesa nel processo e nella società quindi andava a sottolineare questo ruolo sociale ed era anche per ricordare Brutimic che si è lasciata morire di fame perché in Turchia noi in questo siamo fortunati perché in Turchia non c'è un giusto processo quindi gli avvocati con la scusa di essere terroristi vengono perseguitati e incarcerati e lei è morta chiedendo un giusto processo con lo sciopero della fame e quindi che il suo sacrificio possa essere per noi anche di speranza la frase è questa ed è un sostituto procuratore quindi non sempre volano le scintille tra avvocato e PM l'avvocato conosce più di chiunque altro il piccolo mondo che sta dietro ogni fascicolo e che noi spesso non riusciamo a intravedere ebbene dice io penso che le frequentazioni degli avvocati siano per il magistrato uno degli strumenti più utili di collegamento con la realtà sociale l'antidoto più immediato per contrastare il rischio di leggere ogni fatto sottoposto al nostro giudizio con la lente a lungo andare deformante delle norme giuridiche e del linguaggio processuale quindi è un magistrato che chiede l'avvicinamento dell'avvocato non solo siccome conosce il fascicolo più di ogni altro forse più di lui e questo è vero di avvicinarci ad ogni processo tenendo conto della realtà sociale cioè dell'impatto giuridico sociale di ogni di ogni processo grazie adesso passo la parola al presidente di rete dobbiamo essere brevi perché poi seguirà il pranzo e vi prego di rimanere nostri ospiti e poi dopo il pranzo noi faremo la nostra riunione la nostra programmazione di direttivo per cominciare a lavorare volevo ricordare sì abbiamo invitato tutti però qualcuno per impegni non è potuto venire siamo contenti di avere abbiamo fatto abbiamo fatto un bel colpo perché ne abbiamo avuto quattro quindi che poi vabbè a parte il il presidente ospitante ma abbiamo avuto cinque cinque presidenti non è per noi per noi è un bel traguardo che poi ci dovete fare la promessa solenne della collaborazione dell'aiuto del sostegno e della vi siete dichiarate allora io non so allora io non so l'ordine da seguire ma partiamo l'avvocato Rossella Massim mi pare che è andata via ma no è qua io vi dico che rivoluzionando rivoluzionando il nostro regolamento di rete questa volta abbiamo deciso di 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 avere nella rete due vicepresidenti e abbiamo fatto anche noi la base distrettuale quindi abbiamo il vicepresidente di Cosenza avvocato Rosamasi vicepresidente del distretto di Catanzaro la dovremmo indossare tutti ma non si sente poi questo è l'unico infatti mi sa che se la deve togliere e per il distretto di Reggio l'avvocato Giuliana Giuliana Barbarri poi abbiamo come segretaria l'avvocato Teresa Battigaglia del foro di Crotone e Crotone ha avuto la presidenza che mi ha preceduto quindi non c'è perché è fuori per l'insegnamento ma faccio un saluto caro alla presidente che mi ha preceduto l'avvocato Giovanna Pignolo del foro di Crotone passo la parola a in ordine alfabetico alle vicepresidenti in ordine alfabetico per parità e quindi viene Cosenza un ringraziamento alla presidente Davoli per l'invito e per l'occasione che ci ha dato di essere finalmente di nuovo tutti insieme e poter vederci senza uno schermo che ci divide era una necessità che si sentiva buongiorno a tutte no buongiorno a tutte no no perché perché io vorrei solamente farvi riflettere su un fatto se io avessi detto buongiorno a tutti qualcuna si sarebbe sentita esclusa no noi facciamo che l'abitudine è buongiorno a tutte e buongiorno a tutti perché questo lo dico solamente questo lo dico solamente perché tanti sono gli argomenti su cui poter poterci confrontare poter riflettere non ultimo il linguaggio di genere su cui noi tanto investiamo perché una cosa detta così quando io dico buongiorno a tutte non si capisce perché gli uomini si devono sentire esclusi quando a noi donne hanno insegnato questa invenzione del maschile inclusivo quindi noi ci siamo e vogliamo che essere considerate ma era solamente insomma per dire quali sono le tante attività dei comitati pari opportunità quindi anche una diffusione della cultura di genere la nostra rete è stata la prima rete in Italia a nascere ma la forza di questa rete è data dalla consapevolezza che noi siamo sempre a un punto di partenza non ci sentiamo mai arrivate a nulla perché questi incontri gli incontri che noi facciamo tra i comitati sono sempre occasioni di crescita di condivisione di esperienze di professionalità acquisite anche al di fuori dei comitati e questo ci consente di essere considerate anche considerate a livello nazionale una rete dei comitati pari opportunità molto attiva con la presidenza di Angela sicuramente continueremo su questa scia e andremo sempre avanti io sono stata invitata ad essere breve e breve sono quindi ringrazio tutte e tutti e spero di avere tante occasioni per stare insieme per confrontarci su tanti perché gli spunti che mi sono stati dati dai vari interventi vorrei poter dire qualcosa su ciascun intervento ascoltato ma non abbiamo il tempo di farlo solamente una cosa sola poi si sentirà attaccato però si sentirà attaccato ma solo per dire perché ho sentito a un certo punto braccio armato in realtà noi siamo siamo armate per necessità e quando non lo siamo spesso finisce male grazie a tutte a tutti allora prima di c'è uno spasto però è uno spasto è uno spasto va bene allora prima di dare la parola al presidente del CPO di Reggio Calabria avvocato Giuliana Barbarri volevo dire ancora una cosa che noi facciamo capo una commissione nazionale preseduta dall'avvocato Maria Masi alla quale vanno i miei saluti i miei complimenti non si arrabbierà chi aspira a questa carica ma è già vicepresidente del Consiglio Nazionale Forense in questo momento purtroppo che si deve rivotare quindi sarà rieletto il presidente noi ci auguriamo fortemente che diventi presidente del Consiglio Nazionale Forense perché per averla conosciuta e per averne osservato le capacità umane professionali intellettuali e tutto veramente sarebbe un'ottima guida quindi ce la spieghiamo vi ricordo inoltre non per autoreferenzialità ma perché la Calabria esprime anche a livello nazionale lavoro ed è sempre lì come come le zecchette siamo noi l'avvocato Rosalba Viscomi e l'avvocato Rossella Masi presidenti rispettivamente del CPO di Cosenza di Catanzaro e del CPO di Cosenza sono membri di commissioni nazionali facenti capo al CNF quindi anche da lì ci seguono e ci sostengono do la parola Giuliana Barberi non prima di avere salutato con grande affetto la presidente che mi ha preceduto la presidente del CPO Francesca Mesuraca Francesca Zaccaro non c'è perché lei che lo ha ideato e lo ha creato quando non era obbligatorio dal lontano 2005 mi dispiace che non c'è ma le porteranno sicuramente i nostri saluti poi sarà registrato e quindi potrà vederci e devo dire che io mi sono innestata su un comitato comunque già ben 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 rodato e quindi ho avuto un terreno diciamo fertile sul quale ho potuto lavorare ancora meglio la parola alla Giuliana Barberi mi suggerisco non solo fare la canzone ah sì ma è in sala sì mi dicono è stata un'omissione di salutare l'avvocato Calzone presidente veterana veterana nata con la rete che ha seguito il CPO per due mandati il CPO di Vibbo il CPO di Vibbo ha avuto il monopolio ha avuto il monopolio del comitato pari opportunità di Vibbo finalmente ha ceduto le armi e infatti adesso abbiamo l'avvocato Maria Severino e per non perdere altro tempo così abbiamo pure un po' di fame penso passo la parola a Giuliana pregandola di essere breve senza altro grazie intanto grazie a tutti coloro che hanno inteso intervenire a questa nostra prima uscita ufficiale della rete grazie perdonatemi a chi mi ha accompagnato oggi che sono il mio vice presidente Lucio Dattola e il mio segretario l'avvocato Giuseppe Mazzetti devo dire che il mio comitato in ragione delle quote esprime in pieno quello che è il pensiero delle quote azzurre perché appunto esattamente per la metà è composto da uomini per cui una cosa che ci tenevo a dire proprio per le varie opportunità detto questo mi preme salutare ovviamente in primis i presidenti oggi e la presidente oggi intervenuti perché ci hanno dato veramente un messaggio di vicinanza di assoluta collaborazione e sinergia che deve esistere tra i comitati e i coadi di riferimento lo dico perché c'è un tutto un lavoro a livello nazionale in cui personalmente ho inteso delegare uno dei miei componenti il comitato per lavorare su quella che è la natura giuridica di questi cpo perché abbiano un riconoscimento che vada al di là di quello iniziale dato dalla legge professionale perché noi non siamo lì le mere sentinelle ecco pronte a vigilare o meglio lo facciamo lo facciamo con orgoglio controlliamo quello che è la realizzazione delle pari opportunità nell'accesso e nello svolgimento della professione lo facciamo valorizzando quello che è il ruolo sociale dell'avvocato lo facciamo facendo campagne di solidarietà comunicati tutto ciò che serve anche diciamo su segnalazione dei colleghi proprio per realizzare quello che è il nostro ruolo nell'ambito appunto di quella che è la sinergia e la collaborazione appunto chiedo una maggiore sensibilità da parte dei consigli nostri di riferimento in particolare l'ultimo nostro evento di formazione che è stato realizzato su piattaforma Teams devo dire che già dal mese di aprile il consiglio nazionale forense ha fornito a tutti i consigli dell'ordine questa piattaforma finché la stessa fosse utilizzata nella formazione da remoto quindi in modalità FAD anche ad opera dei comitati pari opportunità noi abbiamo fatto tanti eventi durante il lockdown non lo sapevamo lo abbiamo appreso proprio in occasione di questo evento quindi voglio dire una maggiore comunicazione e una maggiore sinergia anche in questo senso perché dal nazionale le comunicazioni avvengono tramite i COA spesso i CPO non ne sanno nulla questo diciamo non è una bacchettata ma è assolutamente un invito una maggiore attenzione nei nostri confronti detto questo sul messaggio di quote per cui l'unico presidente donna ci ha parlato appunto delle quote anche io non ero assolutamente sensibile a questo diciamo a questo argomento da quando da quando ricopro questo ruolo devo dire che quantomeno le quote possono consentire alle professioniste in generale alle donne ad accedere a quelle che sono le cariche apicali perché come ben sapete la nostra stessa legge elettorale regionale non lo ha previsto per cui siamo subiudice io dico che il rispetto della legge nell'ambito delle elezioni degli ordini nell'ambito delle leggi elettorali in generale sia fondamentale e se non portiamo avanti noi avvocati questo pensiero chi dovrebbe farlo rapporto con i magistrati io mi trovo in assoluta sinergia con la magistratura nel mio distretto e non lo dico per piacere ma perché veramente con loro mi sono sempre confrontata durante la formazione quando ricoprivo il ruolo di responsabile della formazione è presso il mio COA che presso il Consiglio Nazionale Forense sempre si sono dimostrati particolarmente sensibili alle nostre esigenze diciamo di formazione e quindi questo senso una particolare quindi ringraziamento a tutta diciamo a tutti coloro che hanno realizzato la rete innanzitutto e che hanno voluto fortemente i comitati pari opportunità presso i relativi rispettivi COA il nostro c'è dal 2008 all'epoca ero consigliere io ero nel 2008 il referente alle pari opportunità del mio COA e per cui ho fortemente voluto la creazione di questo comitato che è preciso elettivo quindi ci sono delle elezioni molto molto importanti non rubo diciamo ulteriore tempo perché già chi mi ha preceduto è stato veramente esaustivo io vi ringrazio e auguro buon lavoro alla rete e a tutti gli avvocati seguiamo adesso l'ordine alfabetico quindi Catanzaro è sempre in pollo Catanzaro con la C C e A C e A per parlare l'avvocato Rosalba Rosalba Viscomi sì ho la carica la segretaria però è impegnata quindi chi vuole mi alzo perché se no non ho buongiorno a tutti e bentrovati e un saluto particolare va alla presidente Angela Davoli neo insediata eletta della presidenza della rete siamo al terzo rinnovo di questo direttivo che ricade per la terza volta nel distretto di Catanzaro ma questo non significa che sia stato esclusivo perché c'è stata una forte collaborazione sempre tra i comitati pari opportunità volevo ricordare che questa rete quest'anno compie dieci anni anche noi abbiamo un importante compleanno da festeggiare e volevo fare gli auguri innanzitutto al comitato di pari opportunità di la mezzia terme che compie i quindici anni non poteva farlo meglio che avere alla capo e alla presidenza una donna l'avvocato che saluto la presidente di Namascaro quindi marasco chiedo scusa chiedo scusa marasco quindi ritengo che non poteva festeggiare meglio questo appuntamento di quindici anni ecco mi ha tolto le parole nel senso che anche il comitato ha dato il suo contributo per arrivare a parte tante donne che sono state in consiglio che ci sono in consiglio dell'ordine tante colleghe validissime quindi ci auguriamo che su questa scia possano continuare anche gli altri ordini non dimentico che anche all'Ocri abbiamo una presidente donna la Emma la seconda quindi diciamo che siamo sulla buona strada ma su si 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 Gabriella diciamo che su dieci ordini due presidenti donne sono ancora un po' pochine sono pochine e noi stiamo lavorando tutti ecco sì quindi ritengo che questa è una bellissima occasione per Angela Davoli donna sottolineo dalle spalle larghe mi piace dire e dalla passione inesauribile per la professione per le pari opportunità quindi non potevamo indicare una presidente migliore di lei io colgo l'occasione per salutare che non è presente oggi con noi Giovanna Pignolo che ci ha precedute in questa in questo coordinamento in questa presidenza quindi siamo alla terza presidenza e ad Angela faccio tantissimi auguri per questo per questo diciamo percorso per questa avventura di questi anni ha un team fortissimo perché si è dotata di due vicepresidenti di Rossella e di Giuliana e segretaria Teresa ma tutte noi sì ma tutte noi collaboreremo alla pari perché vogliamo chi ha ogni ogni comitato della Calabria ha un percorso più o meno brillante più o meno dico meno per via del tempo che non hanno avuto perché diciamo ci sono comitati di nuova di nuovo insediamento di nuove elezioni quindi non hanno avuto il tempo di esprimere tutto quello che hanno da dire ci sono comitati come Cosenza che è di lungo corso Reggio Crotone anche Catanzaro abbiamo dieci anni però voglio dire abbiamo tutti la stessa motivazione io prima di salutarvi voglio cogliere l'occasione ghiotta non me la posso fare sfuggire perché oggi abbiamo cinque presidenti dei consigli dell'ordine è stata un'idea geniale di Angela di invitarvi e noi siamo no no quindi è un momento veramente bello di confronto abbiamo ascoltato ascoltato con attenzione tutto quello che è stato detto e ritengo che ritengo che è stata un'idea coordinata con te perché dall'alto della tua esperienza io ne avevo già l'intenzione ma dall'alto della tua esperienza hai consigliato che sarebbe stato bello e sarebbe stato molto importante in questo momento va bene l'ha voluto precisare ma io non ci tenevo allora dico questo perché perché in pratica noi come rete dei CPO siamo stati già invitati dall'Unione Fori e avevo il presidente dell'Unione Fori era Napoli Francesco Napoli quindi c'era a capo la nostra collega Giovanna Pignolo siamo stati accolte benissimo e addirittura siamo state inserite nel loro programma di di essere invitate anche una tantum quando gli argomenti ne sarebbero stati diciamo l'argomento lo richiedeva però poi è rimasta lì e questo invito questo bellissimo incontro ma non ha avuto un seguito io mi auguro che la vostra presenza qui oggi possa essere il primo momento di riaprire i contatti con l'Unione Fori perché è bellissimo quello che voi dite il braccio armato che dice Antonella la costola che dice il presidente Gallucci ed è un termine che diciamo è ripetuto da tanti presidenti degli ordini e lo sentite veramente io poi riconosco perché siamo andati un po' in giro nei vari CPO quindi i presidenti intervengono sempre per un saluto quindi si comprende quando un presidente dell'ordine è vicino al CPO e nel suo caso il presidente Gallucci è sempre stato vicino a Rossella nel comitato come anche il precedente Morcavallo l'avvocato però vorrei che questo fosse un dire comune fosse una sensazione comune un approccio comune di tutti i presidenti degli ordini e non è sempre così perché il fatto che succedano delle cose spiacevoli dei momenti diciamo che poi sono di confronto e di crescita perché superando quei problemi si va a non sbagliare ci auguriamo di non sbagliare dall'una e dall'altra parte quindi il confronto tra la rete dei CPO e l'Unione Fori porta ad avere un equilibrio a stabilire quali sono i ruoli quali sono i nostri limiti se questa costola è una costola in tutto e per tutto e non in alcuni momenti sì e in altri no quindi voglio dire è una la comunicazione anche tra di noi a cui alludeva Giuliana che magari non abbiamo delle le comunicazioni che arrivano dal CNF non arrivano poi sempre però per fortuna ci siamo io e Rossella quindi quando arrivano queste comunicazioni noi siamo un occhio di un osservatorio e quindi abbiamo anche diamo questo apporto ai comitati quando il consiglio dell'ordine del Presidente o chi per lui non è proprio tempestivo io dico in generale allora detto questo noi ci auspichiamo che questo dialogo riprenda e riprenda nell'ottica sia della collaborazione ma del rispetto dei ruoli perché la legge ci ha previsti siamo istituzionalizzati e dobbiamo entrambi sapere dove arriva il nostro limite e dove è il vostro e dove è la collaborazione e dove il CNF che vi deve comunitare perché il consiglio dell'ordine non diventa un segretariato perché arrivano del CNF la gerarchia qual è Presidente la gerarchia qual è CNF e consiglio dell'ordine c'è una gerarchia tra di voi quindi non possiamo dire che quando ci conviene ditelo pure ai comitati perché c'è una gerarchia noi ci siamo battuti per questo perché l'OCF abbiamo fatto abbiamo fatto una battaglia con l'OCF che non mandava le comunicazioni ai comitati ma li bypassava ci sono tante tante situazioni e tante cose che secondo me e secondo tutte le colleghe se ci confrontiamo anche alle riunioni dell'Unione Fori e alle nostre riunioni come oggi lo abbiamo inteso facciamo dei passi avanti evitiamo tanti problemi che si sono creati perché il momento del cambio della presidenza e del direttivo è un momento anche di riflessione di guardare dove si è sbagliato dove potevamo fare di più e quindi non ripetere gli stessi errori del passato questa è un'autocritica ma noi la rivolgiamo anche ai consigli dell'ordine il mio presidente Massimo potrebbe essere ci sono momenti in cui una questione può essere di competenza anche del consiglio dell'ordine ma in via prioritaria forse il comitato dell'ordine che non so un collega o una questione che ha investito fatti razziali se non sessisti qualcuno mi ha detto non ti fare pregare dal CIPIO che arriva prima di te io invece ho fatto il contrario sono sempre un testicolo ma prima un iscritto all'ordine ma lasciamo bene infatti prima un iscritto all'ordine e poi vediamo però siccome c'è la competenza del CIPIO però non ci dimentichiamo che è un iscritto all'ordine e ha sollecitato il consiglio dell'ordine quindi sempre diciamo la la preferenza diciamo all'organismo che è costituito con questo scopo sociale diciamo e poi il consiglio dell'ordine che va a supportare e va a aiutare ma io nel dire nel riportare il suo attaccare il suo era perché in pratica condivido il suo operato e il modo di fare l'ho capito tramite Rossella anche di persona quindi ecco questo che lei sta per dire nell'ambito di una riunione dell'unione fuori è un qualche cosa che porta avanti la discussione il confronto e che costruisce per il meglio scusatemi se mi sono dilungata ma mi sembrava doverosa è un discorso di consiglio dell'ordine per ogni consiglio è un rapporto nuovo perché si è un rapporto nuovo ecco ecco finisco chiudo finisco finito poi se mi arrivano delle comunicazioni e sono indirizzate al CPO io le leggero però secondo me ci sono molte comunicazioni che meriterebbero comunque di andare al CPO però se il CNF me le manda a me noi arrivano due milioni di comunicazioni quindi il CNF deve riconoscere il CPO non è che possiamo sempre far gravare tutte le figure comunque il mio discorso era generale perché non vuol dire io con il mio consiglio dell'ordine si e quindi dobbiamo fare un percorso insieme non ho fatto queste precisazioni perché riguarda il mio ordine perché con il mio consiglio dell'ordine da dieci anni che ho fatto la Presidente sono andata sempre d'accordo la comunicazione non ci sono stati mai problemi ma non perché io vado d'accordo con il mio non devo vedere cosa succede a fianco se la rete esiste esiste per aiutarci l'uno con l'altro grazie volevo dire a proposito che il Consiglio Nazionale Forense secondo me è corretto che si debba fare carico di questa nelle more fino a quando non verrà avviato questo percorso i COA ci supportino perché è questo il senso di quello che volevamo dire grazie ad Angela lo dico ora così poi non prendo più la parola perché mi è stata molto vicina durante una determinata vicenda ha manifestato la sua solidarietà come neopresidente della rete e al comitato di Reggio Colatti grazie sempre tutti i presidenti e tutti i CPO saranno per me molto cari e li difenderò sempre perché il nostro operato veramente non per autoreferenzialità ma è veramente di grande importanza per la società tutta e credo che abbiamo con il nostro percorso tenuto alto il nome dell'avvocatura con il nostro lavoro soprattutto dell'avvocatura calabrese mi auguro che continui così e mi auguro soprattutto che il rapporto lo diceva l'avvocato Dino Marasco e il nostro presidente che si crei un rapporto nuovo e quindi che si risolva o col CNF o con gli ordini anche questo fatto delle mancate comunicazioni che molte volte non pervengono non per mala fede ma perché ce ne sono tante perché magari sono gli stessi sono quelli stessi che lavorano presso i consigli che magari omettono di smistarla perché anche loro dovrebbero ormai con l'esperienza che hanno dovrebbero capire se c'è qualcosa che va comunque sì poi chiedo scusa al mio comitato perché presa dall'entusiasmo dalla voglia di ospitarvi dalla felicità di avervi io ho messo di dire che ce le ho quasi tutte qui che è un bel comitato ve le presento sono l'avvocato Raffaella Mascaro tesoriere l'avvocato Mariangela Longo vicepresidente l'avvocato Marianina Scaromuzzino responsabile dei rapporti COA CPO e organismi forenzi l'avvocato Serena Perri responsabile di comunicazione e l'avvocato Francesca Longo responsabile pure della stampa della comunicazione perché abbiamo fatto delle commissioni al nostro interno proprio per lavorare tutte e poi c'è dov'è non la vedo è uscita e poi c'è l'avvocato Rossella Bonaddio perché abbiamo pure qui allargato e abbiamo due segretarie perché l'avvocato è tutto al femminile perché quando si fanno le candidature alla Mezzia Presidente non so come dobbiamo fare non ci sono candidature maschili nel comitato noi li preghiamo li invitiamo no 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 l'avremmo voluto anche perché a livello nazionale ci sono a livello nazionale ci sono i presidenti CPO a livello nazionale c'è Taranto che ha il presidente del CPO c'è Bergamo c'è Bergamo c'è Roma c'è Roma Bergamo Taranto i presidenti del CPO uomini quindi va bene l'avvocato Rossella Bonaddio dicevo è segretaria dei rapporti con le istituzioni insomma abbiamo formato delle commissioni per lavorare tutte per rendere più efficace il nostro lavoro è un comitato che mi supporta e che grazie a loro io sono dove sono perché mi hanno sempre supportata incoraggiata aiutata e sostenuta grazie adesso l'ordine alfabetico me lo sono scordata va bene allora l'avvocato Teresa Battigaglia segretaria della rete presidente del comitato per opportunità di Crotone buongiorno a tutte e tutti io invece inizio direttamente così perché è sempre stato buon uso dire buonasera signore e signori e dovremmo secondo me rivalutare e riprendere le vecchie abitudini perché sono sempre le migliori a mio avviso volgendo l'occhio al passato c'è sempre da imparare io non è che mi voglia soffermare al linguaggio di genere questo era soltanto un piccolo accenno però mi preme prima di tutto ringraziare l'avvocata Angela Davoli e tutto il cipio ospitante di La Mezzia per questo bellissimo evento per questa bellissima proprio oserei dire giornata perché per noi continuerà continuerà perché poi la vera e propria riunione di rete sarà nel pomeriggio dopo pranzo quindi dopo i ringraziamenti doverosi io mi soffermo ahimè mi ripeto anzi perché anch'io volevo un po' buttare l'accento su queste pari opportunità pari opportunità che beh più che altro i comitati che appunto costituiscono quasi una contraddizione in termini dico questo perché perché così come cioè noi dovremmo essere deputati a difendere appunto tutte le classi discriminate tutte le classi svantaggiate dell'avvocatura ma ahimè noi stessi siamo discriminati ecco perché sembra quasi un controsenso perché se io ascoltando i vari presidenti dei COA hanno ripetuto quello che anche i presidenti che si sono via via vicendati nel mio dico hanno sempre sostenuto il comitato pari opportunità è una costola del COA già questo discorso la costola rappresenta la donna perché Eva ricordiamo è sicuramente la prima costola no nata dalla costola di Adamo e per questo nasce la donna nasce il sesso tra virgolette debole e quindi questo comitato proprio già come costola del COA io la vedo un pochettino no la vedo un pochettino non debole ma sicuramente quasi diciamo una presa in giro ecco perché poi ecco come diceva anche l'avvocato Talarico diceva che comunque loro avvertono che lavorano di concerto con il comitato però poi dall'altro magari lagna il fatto che non vuole comunque fare il segretario al comitato anche questo vedete queste piccole cose alla fine no io non voglio fare no 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 assolutamente no 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 però ok è bello se l'ordine si trasformi in un segretario perché siccome dovete essere riconosciuti e il CNF ti deve riconoscere non siete un apparato di secondo grado e allora il CNF vi riconosce e vi deve mandare le cari io ho gran piacere vi far interruggire con il mio CPO ma non è il giusto riconoscimento che dovete avere questo era il mio però ora ecco io non volevo non volevo fare polemica però questo per dire che comunque c'è questa problematica problematica che a mio avviso risiede nel fatto che come ha detto chi mi ha preceduto sicuramente in maniera egregia la collega Davoli ha detto che appunto i CPO nascono prima che vengano riconosciuti dalla legge questo significa che comunque nel momento in cui i CPO avvengono ad esistenza non avendo alcun riconoscimento non essendo istituzionalizzati logicamente non hanno il peso il giusto peso che devono avere ora però abbiamo praticamente risolto ora però abbiamo risolto noi siamo stati istituzionalizzati istituzionalizzati e questo a me preme ribadirlo perché preme più che altro evidenziarlo non ribadirlo dico ribadirlo perché lo faccio con il mio COA oggi lo faccio con voi approfitto della presenza dei presidenti di COA cioè sostanzialmente essere istituzionalizzata significa che il comitato pari opportunità rispetto alle altre associazioni operanti sul territorio debba avere sicuramente un peso superiore quindi io ora è chiaro che dall'oggi al domani non si può non si può cambiare lo stato delle cose non mi aspetto che domani ci sia proprio una collaborazione strettissima ma quantomeno un'apertura un'apertura che faccia comprendere a noi comitati che effettivamente i COA ci riconoscono perché se da un lato è vero che è il CNF che dovrebbe comunque ecco riconoscerci maggiormente però iniziamo dal piccolo perché iniziando dal piccolo poi si otterrà poi sempre di più io non voglio tediarvi ulteriormente questo perché comunque siete presenti voi i presidenti dei COA questo perché io avrei fatto un discorso di natura diversa però mi premeva a dirlo quindi ripasso la parola all'avvocato Davoli la parola all'avvocato Angela Bellusci Foro di Castrovilla ripresidente del CPO di Castrovilla io ovviamente saluto tutti i colleghi e colleghe presenti e i presidenti dei consigli dell'ordine e un abbraccio anche se non te lo posso dare diciamo proprio fisicamente ad Angela per il ruolo che le abbiamo diciamo tutte insieme all'unanimità affidato e soprattutto un grande ringraziamento per questa ospitalità a te e a tutto diciamo il tuo CPO un saluto a tutte le colleghe è per me ovviamente la prima volta che vi vedo realmente e di persona perché il comitato di Castrovilla si è insiedato a gennaio di quest'anno con le elezioni fatte a fine 2019 pertanto il mio lavoro è stato subito bloccato da questa emergenza sanitaria da questa maledetta pandemia e ancora tanto mi aspetta da fare e sicuramente trovarmi in questa rete in un gruppo di professioniste così valide tenaci e sempre aggiornate veramente in tempo reale su tutto quello che accade oltre che nel nostro diciamo ambito lavorativo anche a livello politico e sociale sicuramente sarà per me un vantaggio perché io dalla vostra esperienza trarrò utili consigli e cercherò di accelerare il più possibile il lavoro che mi aspetta da donna professionista non ho ancora diciamo non ho percepito in realtà nella mia esperienza personale delle puntuali disparità sarà perché forse tutte noi che qui ci troviamo a diciamo a rappresentare un ruolo avremo sicuramente il nostro bel caratterino come ci ricordava Antonello quindi forse noi personalmente non ci siamo mai trovate in difficoltà e in situazioni in cui siamo state emarginate o di disparità insomma però quello che mi ha fatto riflettere mi ha fatto diciamo pensare di poter dare la disponibilità per ricoprire questo ruolo che ritengo molto delicato è stato proprio il fatto di porsi come punto di ascolto di sensibilità per chi invece magari la voce di alzarla a volte non ha ancora il coraggio perché magari si è giovane oppure perché si sente davvero in difficoltà perché è difficile dover esprimere una propria disabilità ad esempio per ricordarlo ai colleghi ricordarlo ai magistrati e quindi che la mia attenzione vi dirò forse sarò diciamo mia sarò diversa dalla maggioranza ma la mia attenzione sarà più rivolta a questo che magari alla differenza di genere a livello linguistico già che ancora non sono entrata in questa in questa ottica quindi sicuramente mi rimproverete perché a volte non farò questa distinzione sarà che sarà che no sarà che io da penalista vivo nell'ambito più maschile della nostra vocatura però non ho sinceramente anche a livello istituzionale nei consigli dell'ordine nei presidenti delle varie associazioni forense dobbiamo ammettere che nella nostra Calabria pur se di profondo sud comunque non abbiamo gravi problemi di questo genere e di genere e sicuramente invece questo periodo particolare della nostra esistenza mi farà diciamo riflettere anche insieme al segretario che qui saluto del CIPI di Castrovillari Paola Bruno che mi ha accompagnato più che altro su oltre che le disparità di genere più che altro per quanto riguarda le sensibilità verso chi magari si trova in difficoltà fisiche ma anche fisiche non evidenti come abbiamo potuto rilevare durante la pandemia quindi anche chi è diciamo immunodeficitario insomma ci siamo resi conto che magari quei provvedimenti dei presidenti tribunali e tribunali presi molto spesso senza diciamo chiedere consiglio neanche ai COA figuriamoci ai CPO quanto possano essere limitanti per chi ha delle difficoltà serie di salute in questo periodo così particolare anche dover andare in tribunale può diventare una difficoltà se non vengono presi diciamo i giusti provvedimenti e sicuramente i CPO della rete calabrese saranno un momento diciamo che un punto che vigilerà su questa esigenza anche a livello regolamentare che si evidenzia in questo periodo io tra l'altro vi porto anche i saluti del presidente del consiglio dell'ordine di Castrovilla di Roberto Laghi che non è qui per motivi diciamo personali non riusciva per impegni era fuori sede e ci auguro a tutti quanti un buon inizio di questo nuovo cammino insieme alla guida esperta di Angela sono sicura che faremo un ottimo lavoro e vi abbraccio tutte in questo modo è tanto grazie allora prima di passare la parola all'Ocri alla cara Gabriella volevo dire qualche cosa prendendo spunto da quello che diceva Angela che è una bellissima new entry giovanissima che milita nell'aiga quindi ha già un'esperienza associazionistica e volevo dire che uno dei nostri punti in programma sarà anche la collaborazione con istituzioni associazioni eccetera noi stiamo per fare un protocollo con la camera minorile perché ci siamo resi conto che molte materie sono affini la famiglia i minori eccetera quindi per evitare doppioni e per evitare che si lavori inutilmente facendo le stesse cose stiamo per fare un protocollo con la camera minorile per eventi comuni perché dicevo i minori appartengono anche alle nostre alle nostre competenze do la parola all'avvocato Gabriella Romeo del foro di Locri presidente del cipio di Locri ordinista perché viene viene dall'ordine quindi anche Giuliana viene dall'ordine quindi abbiamo anche esperienze ordinistiche che non so se ci faranno bene o ci faranno male bisogna vedere però Gabriella scusami ma Crotone voleva fare perché ho dimenticato di salutare Serafina Cavaliere la collega che mi ha accompagnato del cipio di Crotone mi sembrava doveroso scusate Buongiorno a tutti e a tutte vista l'ora tarda sarò breve e concisa prima di tutto prima di tutto saluto Angela Davoli che ci ha ospitato in maniera non ci sono parole e tutto il comitato vorrei avrei voluto tutti i presidenti cipio presenti avrei voluto dire tante cose su ogni sull'intervento di ognuno ci sarebbero tante cose da dire dovremmo fare un convegno a parte ai presidenti presenti al presidente Page ci siamo incontrati milioni di volte in altra sede volevo dire due cose solamente solamente riguardo ai COA hanno sbagliato i COA quando hanno tenuto le porte chiuse e quindi l'avvocatura si è allontanata e quindi disconosce quello che è il ruolo importante del COA le porte del COA devono stare aperte perché è la casa degli avvocati dove sono state aperte ci sono stati dei riscontri importanti voglio dire solo la mia esperienza per poi dire il passaggio successivo in due parole l'OCRI ha avuto la commissione nel 2001 quando io sono entrata a l'OCRI grazie a Nino Maio che ha visto lontano e che ha fatto partecipare al consiglio ha rinnovato il consiglio in due legislature su 15 7-8 donne quando sono arrivata io nel 2001 c'era solo Gabriella Mollica che poi è stata la prima presidente donna la presidente attuale è donna e viene dalla nostra esperienza quindi abbiamo aperto le porte abbiamo ringiovanito il consiglio e inserito le donne quando le donne all'OCRI non volevano partecipare ma non per timore o perché non si ritenevano capaci perché noi dobbiamo andare all'origine del perché siamo arrivati dove siamo arrivati e dove ancora c'è la disparità di genere che non è una disparità di genere è una disparità culturale non dimentichiamoci che le donne sono state ammesse a studiare molto tardi e all'inizio non potevano frequentare giurisprudenza o medicina dovevano fare le maestrine per poi arrivare al diritto di voto a poter ereditare che è una cosa seria io negli anni 90 ancora c'erano presenti l'istituto della dote ho visto negli studi notorili l'istituto della dote quindi detto questo dico che attraverso i comportamenti prima di tutto e poi le battaglie sulle qualificazioni giuridiche si fa la differenza perché di solito è la norma che insegue i cambiamenti sociali la norma arriva sempre in ritardo l'altra cosa che voglio dire è che mi piace tutto questo movimento nel distinguo linguistico nel dire il COA deve partecipare dove ci sono presidenti illuminati e tesorieri illuminati le cose funzionano oggi la mia presidente non è presente perché proprio per un disguido sulla posta ha avuto la notizia da me che c'era l'invito che ho girato io su whatsapp la segretaria non l'ha stampata e non l'ha portata glielo ho comunicato io quindi lei oggi era impossibilitata di essere presente e comunque a trovare un sostituto questo giusto per far capire non giustificare i COA ma io ci sono passata quindi so che esiste questo problema ma perché c'è un effettivo problema detto questo dico che noi oggi insieme a tutta l'attività che dobbiamo fare per far cambiare inserire in costituzione far cambiare certi comportamenti farci riconoscere dal CNF dobbiamo fare un lavoro sul territorio attraverso il sollecitare le scuole ad adottare libri di testo dove non c'è la differenza di genere a studiare determinate cose a riconoscere determinati comportamenti e a sollecitare sia i COA che i presidenti di tribunale attraverso il giusto percorso CPO-COA COA-Tribunale perché il verodramma dell'avvocatura indipendentemente dal genere e dalle problematiche è la non unitarietà dell'avvocatura ci siamo persi in rivoli di associazioni e di opinioni diverse per non raggiungere il nulla aggiungiamo a tutto questo la non più autorevolezza dell'avvocatura che si è allontanata non si è più non si è più l'orgoglio di essere avvocati non ci riconosciamo più quindi riappropriamoci del ruolo dell'avvocatura in tutti i suoi generi e auspico che ben presto ci siano dei risultati fattivi attraverso i comportamenti il rispetto delle regole soprattutto e ritorniamo a fare eventi sulla deontologia e sul ruolo dell'avvocato che sia donna che sia uomo o di qualsiasi genere sia grazie a tutti voi vi chiedo scusa per avervi sottratto ancora del tempo allora adesso la parola a Paola avvocato Maria Bernardo o Mariella Maria o Mariella io ti chiamo Mariella però io ti chiamo Mariella per gli amici presidente del CPO di Paola che è presidente ma è stata componente del CPO quindi è un'esperienza di CPO già collaudata grazie alla presidente di rete Angela Davoli per averci voluto fortemente qui e grazie per averci dato la possibilità finalmente di rincontrarci di persona esatto senza quello schermo perché è un periodo è stato un periodo e speriamo che ce lo siamo lasciati alle spalle anche se le previsioni sono poi non così rose perché veramente insomma è stato un periodo brutto per tutti io sono onorata di essere seduta a questo tavolo mi sono insediata a novembre scorso quindi diciamo che la mia attività come presidente del CPO è relativamente diciamo proprio nuovissima perché appunto per la per l'emergenza covid insomma non ancora abbiamo non siamo riusciti a partire come avremmo voluto ringrazio il presidente Mario Pace e tengo a precisarlo non perché è presente mi ha minacciato ma questo lo mettiamo da parte diciamo che ci minacciamo a vicenda è un rapporto ecco come voglio spero che sia che e che mi auguro che insomma si possa instaurare presso tutti i COA con i rispettivi CPO sino all'agmatico lo dicevamo ieri proprio con la presidente Davoli perché appunto io devo dire che eredito questa carica e già avevo come eredità questa bellissima questo bellissimo rapporto con il nostro COA e tengo a precisare che in effetti quello che diceva l'avvocato Tararico noi dobbiamo necessariamente volere fortemente come abbiamo voluto finora la nostra affermazione con le rispettive cariche nel CPO con la presenza proprio l'importanza del CPO dobbiamo volere l'intervento del CNF per il nostro riconoscimento formale perché in effetti il mio presidente COA dice che mi dà e che dà tutte noi insomma al CPO completo l'importanza che meritiamo però dice effettivamente abbiamo necessità di un riconoscimento da parte del CNF per esempio proprio porto questo esempio che è recente per quanto riguarda l'emergenza della pandemia per la redazione dei protocolli dice noi vi coinvolgiamo però se non abbiamo una direttiva del CNF per interfacciarvi e farvi sedere al tavolo delle trattative noi non abbiamo questa possibilità almeno formalmente quindi viene la difficoltà anche per il COA di inserire nei lavori il CPO quindi spero che insomma il COA tutti i COA si facciano per il momento nell'attesa che questa affermazione formale avvenga si faccia portavoce anche di quella esigenza perché mi piace di definirmi come CPO la costola del COA cioè noi non siamo un organismo a parte come possono essere tutti gli altri organismi che gravitano intorno al nostro ambiente noi facciamo parte proprio del COA siamo espressione del COA e diciamo un filtro potremmo essere un filtro fra quella che è la funzione appunto apicale del Consiglio dell'Ordine con quelle che sono le singole posizioni degli appartenenti all'Ordine stesso quindi detto questo io faccio un in bocca al lupo alla rete affinché i lavori si facciano sempre più proficui e ringrazio ancora tutti quanti prima di dare la parola al Presidente CPO di Vibbo consentitemi più che altro delle precisazioni allora per quanto riguarda la diatriba su chi deve farci le comunicazioni vedremo come risolverlo perché io penso veramente che a parte i COA diligenti a parte quelli polemici che dicono che non sono i nostri segretari è una battuta ecco credo che sì 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 è il CNF è il CNF che ci deve che ci deve coinvolgere per quanto riguarda il fatto del protocollo d'udienza non sono molto d'accordo perché noi ci siamo nei tribunali e siamo istituzionali quindi territorialmente non avevamo bisogno di un'investitura dal CNF per partecipare ai protocolli di udienza e ci volevamo partecipare non per mettere il naso o per farci le belle o per fare sempre o per fare sempre quelle che ma perché ci potevano essere problemi va beh ma se siamo una costola consiglio dell'ordine senza costole vabbè comunque 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 avete 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 no mi pare di capire che avete avete interpretato alla lettera proprio avete interpretato in maniera troppo letterale sentito il consiglio dell'ordine ma se siamo una costola le costole non le avete sentite non le avete ve le siete to vabbè insieme al tribunale alla procura al COA abbiamo fatto dei protocolli di udienza che sono stati recepiti nei singoli di un'ordine la partecipazione del CTO alla redazione di questi protocolli a parte che oramai lo abbiamo fatto quando non eravamo istituzionalizzati e l'avete interpretata molto letterale comunque allora comunque sentiamo che c'entra la camera penale non ha la nostra ma io non parlo di per lo svolgimento delle udienze ma ridicevo un attimo solo perché è tardi volevo solo dire che questo è un altro problema che si può risolvere perché noi noi con le nostre spalle larghe come qualcuno ci diceva se non ci non ci come dire se omettono quello che per noi secondo secondo noi è necessario vuol dire che faremo dei protocolli e li proporremo come abbiamo fatto noi siamo andati avanti a protocolli fino a questo non l'abbiamo sottolineato l'attività del CTO è stata fondamentale perché prima che facessero la legge sul legittimo impedimento delle donne in gravidanza e delle evocate in gravidanza noi abbiamo fatti i protocolli ed è solo grazie a quelli che si sono ottenuti rinvii poi è diventata legge ma dove non c'era la legge noi siamo andati lì con i protocolli quindi se dobbiamo andare a fare i protocolli le facciamo non c'è problema ne abbiamo fatti tanti il nostro vero problema il nostro vero problema io lo lancio e poi magari sarà oggetto di qualche altro perché è già oggetto di un gruppo di studio presso il CNF il nostro vero problema prego ICOA di sostenerci in questo percorso è che noi abbiamo un mandato senza rappresentanza perché si riempiono la bocca che siamo elettivi che siamo elettivi però poi nei congressi la massima assista dell'avvocatura non abbiamo diritto di voto noi abbiamo presentato una mozione che è stata dichiarata inammissibile con quella di Malinconico perché si andava nella riduzione del numero dei delegati abbiamo chiesto di poter votare perché spesso e volentieri ci sono da votare mozioni che riguardano noi riguardano le nostre competenze e noi non votiamo dobbiamo andare lì sui delegati e per favore vota questa mozione a fare le lemosinanzi questo è il vero nostro problema gli altri sono risolvibili ma io vi anticipo che lavoreremo lavoreremo su no 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 i CDD no se il CDD si incide con tutta una serie di interventi legislativi no 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 però i CIPO è un'altra cosa perché sono elettivi i CDD hanno una competenza diversa ho una competenza diversa vedo che non sei d'accordo ma ti faremo cambiare idea ti faremo cambiare idea comunque non è una questione di essere d'accordo o meno è un motivo quello che vi ha detto vabbè diamo la parola a Vibo che si disperta questa armonia riprenderemo il discorso e io volevo solo dire che gli altri problemi li risolveremo ma certo che sono piccoli votare i delegati che rappresentano le pari opportunità per esempio in modo che siano portati sì sì dobbiamo trovare un sistema per poter votare io sono attualmente ancora delegato perché attualmente abbiamo un mandato senza rappresentanza e questo è gravissimo e questo è gravissimo decidiamo se sono una costola sono una costola poi il consiglio e l'ordine tutela tutti quindi vabbè ma che sono una costola non c'è scritto da nessuna parte allora è tardi sì ma infatti torneremo sull'argomento quando ci sarà più tempo quando ci sarà più tempo abbiamo posso venire a caranzare a partecipare una volta che il CNF non ho letto la trama non è problema cioè andiamo dai andiamo la caranzare e concludiamo sono le tracche vuole dove proporre a noi l'ordine gerarchico noi diventiamo due coa poi le proponiamo ci ha fermato la pandemia perché ci aveva invitato ci aveva invitato e ci aveva fatto una grande apertura all'Ocf con il quale ci dobbiamo per ammortare prima possibile sempre ha firmato tutte le vostre emozioni del quale fate veramente parte nel senso che vi fa il regolamento stabilisce le modalità di elezioni parlo delle vostre elezioni una serie di attività che sono all'interno della vostra il papà il papà il papà il papà il papà va bene allora finisco sono l'ultima dai così finisco io sarò brevissima sarò brevissima non ti preoccupare sono brevissima aspetta sediti qua sediti qua facciamo la parola non mi ripeto saluto tutti e buongiorno brevissima una breve parentesi sì sicuramente di un altro convegno ma non è questo non è questo il caso io volevo solo portare la mia esperienza personale il CPO di Vibo esiste dal 2008 per volontà dell'attuale segretaria che è qui presente e la saluto l'avvocato Calzone Stella che quindi è stato creato ancora prima del riconoscimento da parte della legge professionale ha sempre cercato di lavorare in simbiosi in collaborazione piena e aperta con il COA dal 2012 si presuppone che i CPO esistano e siano istituzionalizzati ma questa grande collaborazione simbiosi e riconoscimento è inutile che ci nascondiamo non c'è ma non per mancanza di volontà da parte dei presidenti dei consigli dell'ordine per un mancato riconoscimento dei comitati anche da parte degli stessi iscritti noi abbiamo avuto difficoltà a giugno dell'anno scorso a creare la lista anzi dovevamo votare a gennaio non abbiamo votato perché le candidature erano sette e noi siamo un comitato composto da 15 componenti ci siamo ripresentati a giugno e solo tre uomini si sono presentati e sono stati eletti in due quindi voglio dire la difficoltà ce l'abbiamo anche perché non ci riconoscono gli iscritti ma gli iscritti non ci riconoscono perché non ci riconosce comunque spesso il consiglio dell'ordine noi abbiamo da poco inviato agli iscritti il questionario sulle pari opportunità breve sarò convocata dal COA per relazionare sul risultato e qualche iscritto si domanda che cosa faccia il comitato pari opportunità ma la maggior parte delle risposte che abbiamo ricevuto vanno nel senso di una lontananza dei consigli dell'ordine nei confronti degli iscritti noi come pari opportunità al di là del linguaggio di genere che sinceramente in questo momento è l'ultimo problema dell'avvocatura italiana credo che sia il riavvicinamento degli iscritti con il consiglio dell'ordine i consigli così come i camitati pari opportunità dobbiamo fare capire agli iscritti che cosa facciamo dobbiamo fare capire che la mattina quando uscite spesso avete milioni di pensieri che riguardano il consiglio dell'ordine ma se io iscritta non lo capisco mi allontano dal consiglio faccio polemica parlo male scrivo articoli sul giornale e poi mi ritrovo a non votarvi alle prossime elezioni quindi io chiedo questa maggiore collaborazione a prescindere dal ruolo che può essere riconosciuto dal CNF al comitato ma per tutta la categoria cioè dobbiamo essere di ausilio all'intera categoria a prescindere se io sono la presidente del comitato pari opportunità o un singolo iscritto all'ordine questo è il mio pensiero voi potete essere bravi anche voi eh sì stiamo cercando con il consiglio dell'ordine anche perché per loro siamo una cosa nuova in quanto comunque all'interno del consiglio dell'ordine sono quasi tutti eh no tu è la prima sono quasi tutti nuovi anche loro sono nuovi quasi tranne forse due componenti gli altri come noi nel comitato eh compravamo quindi gliel'abbiamo già fornito gliel'abbiamo già fornito qui magari ma magari magari no non è così avremmo abolito le tasse se no vabbè una battuta vabbè quindi vi ringrazio di nuovo Angela grazie a tutti grazie ma anche per i i consiglieri di provenienza al CPO, perché purtroppo ci ritroviamo con consiglieri di provenienza al CPO che non valorizzano le attività del CPO, quindi è un marchio per la raccolta. Allora, il mio piacere è veramente vedere la discussione animata, perché una discussione sterile o quattro saluti non sarebbero serviti a nulla, quindi sceverare i problemi, affrontarli anche con uno spirito polemico e combattivo credo che era anche uno dei nostri scopi. Così sceveriamo le criticità, le problematiche, quindi benvengano i saluti, le battute ma mi fa piacere che siamo riusciti a entrare in un campo critico che ha bisogno di essere ricostruito e di essere ancora sceverato e non mancherà occasione. Io vi ringrazio tutti, vi auguro buon pranzo, poi noi continueremo i nostri lavori di programmazione le fatiche le faremo dopo, non mangiamo troppo. Volevo chiamare però, due parole, proprio due di saluto Stella Calzone che è da sempre nei comitati, del comitato di Vibbo, che quest'anno ha ceduto la presidenza però è rimasta nel comitato e quindi mi fa piacere salutarla perché le esperienze di chi c'è stato ancora prima di noi io ci sono da 11 anni, 10 anni, però Stella c'è da prima. Quindi le esperienze sono sempre... e anche Paola, anche Vibbo è nato prima che la legge li rendesse obbligatori. In Calabria sono stati molto sentiti perché sono nati quasi tutti i comitati in Calabria prima che la legge li rendesse obbligatori. Buongiorno a tutti. Per la nascita del mio comitato a Vibbo Valencia, in tempi non sospetti, era il 2008 e oggi voglio ricordare il mio presidente dell'ordine dell'epoca, l'avvocato Antonio Pontoriero che in effetti mi è stato di grande aiuto perché questo organismo potesse nascere. Detto questo, il mio applauso oggi va agli interventi che ho sentito da parte del presidente del Consiglio dell'Ordine di Cosenza e degli altri presidenti, in quanto ci ho potuto constatare che comunque già c'era o comunque si è disponibile ad un'ulteriore apertura nei confronti dei CPO. Mi spiace dire però che in tempi passati a Vibbo, più che dal mio Consiglio dell'Ordine, io ho avuto grande gratificazione e vicinanza da parte dei vari presidenti dei tribunali che si sono succeduti e del procuratore della Repubblica di Vibbo Valencia, sempre pronti a intervenire nei convegni anche come relatori in corsi di formazione abbastanza complicati e complessi che ho fatto sulla tutela dei minori dove l'appoggio l'ho avuto da tutto il tribunale dei minorenni di Catanzaro, presidente e quant'altro. All'epoca per la Mezzia c'era la collega Zaccaro con cui ho lavorato tantissimo sostanzialmente. Quindi ora mi sembra che la situazione sia un po' regredita in quanto tutta questa apertura al tribunale di Vibbo non l'abbiamo avuta. Io ho avuto la possibilità di firmare protocolli dal 2009 quando non c'era la legge sul legittimo impedimento avallata completamente dai presidenti. L'ostacolo purtroppo l'ho avuto dal mio consiglio dell'ordine e questo è un dato più oggettivo. E in passato? No, no, in passato perché oggi è una cosa nuova e quindi stavo per avvicinarmi al discorso che il mio discorso voleva arrivare a fare i complimenti al mio nuovo presidente dell'ordine il quale in un momento emergenziale dove capisco anche l'invito rivolto soltanto agli ordini ha invece coinvolto il CPO sostanzialmente. Quindi auspico di cuore che al di là del riconoscimento giuridico e quant'altro questa apertura oggi dimostrata possa avere e con proseguo a garanzia non solo... sì, no, no, devo dare atto che in passato... però anche in questo momento emergenziale l'ordine ce lo siamo trovati vicino come comitato pari opportunità. Certo, la strada è lunga, ecco, quindi funge da monito per il proseguo. Quindi tanti auguri a tutti, eh! Grazie a tutti!